Sono per la prima volta qui ai cantieri del forum PA per avere l'opportunità di condividere e di confrontarmi con persone di altissimo livello e credo che i temi affrontati quest'anno siano molto interessanti. Il più interessante sicuramente è quello che riguarda la sicurezza del fattore umano, perché ritengo che la tecnologia da sola non possa bastare per rispondere efficacemente alle sfide che oggi la sicurezza ci impone, a queste vanno accompagnate organizzazioni e processi e sicuramente la sicurezza e il fattore umano rientrano in questi due ambiti. Inoltre sicuramente è la tematica più importante, anche perché è difficile trovare dei controlli efficaci per poter contrastare e per poter rendere efficaci i comportamenti delle persone. inoltre. Grazie.